Grazie a tutti. Quando parli di prigione, intendi proprio sbarre, guardie e docce. Vattene! Sì, sì, ok. Sara, Casey, c'è un problema al Bymore. C'è un tizio con una granata. Arrivo subito al negozio. Dov'è? Se n'è andato. La granata dov'è? Via, via! Non la pide! Oh, è una granata. Ok. Ciao! Un'intercettazione! Giochiamo a lancia e prendi? Che figata! Andiamo! Oh, Grimes! Hai conosciuto il signor Buttermain? L'altra metà della difesa della morte. Allora, qui? Biglietto, un biglietto d'oro. Un biglietto d'oro. Un biglietto d'oro. E questo mio nuovo CD. Non lo so, ragazzi. Pensate che sia giusto. Quel biglietto dovrebbe essere per i fan di Tyler Martin. Ehi, io sono un suo fan. Pure io. Sì, pure io. Buttermain, abbiamo fatto una scommessa. Diciamo che è il nostro primo giorno in prigione. Chi tra noi sarebbe la gazzella più fragile? Qualsiasi cosa mi metti in bocca, sono capace di staccartela a Morsi. Eccolo lì! Il biglietto d'oro! Il biglietto d'oro! Ti prego, Morgan! Ti prego, Morgan! Tu felice! Scegli me! Ok, no! Non vorrai, Sandro! Che avrei deciso? Signori, ti prego! Con questo biglietto posso portare una sola persona. Ok? Quindi risolveremo la cosa col metodo By Mors. Il biglietto è già di Lester. E di Butterman. Per decidere chi mi accompagnerà con il mio biglietto d'oro, vi confronterete con lo speciale Triatron di Morgan. Primo round, la sfida delle mutandine di Molly Ringwald. Il primo di voi che mi porterà delle mutandine da donna sarà... Sono un uomo! Per l'amor del cielo, sono un uomo! Ah. Bene, sono valide! Quel biglietto non è importante per me! Mi serve del piaccio! Il che ci porta all'ultimo round del nostro Triatlon. Buon Dio! Quella è... Sì, Butterman lo è. Lasciate che vi presenti la pastiglia del cesso. Ok, ecco le regole. Il vincitore sarà il primo tra voi che... Ma che schifo! Amico, sul serio, ma sei impazzito? Che ti dice la testa? Dovevi solo toccarla! Vinco comunque, giusto? D'accordo. Chi ha rubato le pastiglie nel water? Mi sono schizzato tutto. Big Mike, ti dispiace se ti chiedo per cosa Butterman era dentro? Si parla di furto, droga, omicidio? Butterman? Sì. Oddio, no! Frode bancaria e insider trading. È un criminale dal colletto bianco. Vi ha spillato dei soldi con l'inganno? Beh, ha detto che andava in un posto. Ci Guatanego? Lo sapevo. È il nome messicano di Philadelphia. Giusto? Ha 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 ha!